È stata presentata a Bologna, nella giornata conclusiva della stagione dell'Ippodromo dell'Arcoveggio, la trasmissione Race Off, realizzata da Roberto Bob Trivisonno e Moreno Bigmo Monti. Ascoltiamo la loro presentazione. Allora, siamo qua all'Ippodromo di Bologna, che oggi vede la chiusura della stagione, siamo tutti in attesa di trasferirsi a Cesena. Io, Bob e Bigmo, qua come rappresentanti unici, nonché titolari, di Race Off, il podcast che noi produciamo tutte le settimane, che parla esclusivamente del mondo del trotto. Di che cosa parliamo in Race Off? Di tutto, di tutto. Genealogie, parliamo dei proprietari, parliamo di allevatori, parliamo degli addetti ai lavori, dagli artieri, ai guidatori, agli allenatori, ai maniscalchi, ai vanisti, abbiamo parlato di tutto. Sì, abbiamo parlato anche di sedie e soprattutto, diciamo, comunque di cose che noi riteniamo buffe. Ci proviamo, no? Il sabione. Il sabione, il sabione, ci stanno da raccontare sul sabione. Il sabione che è qua, ma poi può essere anche da altre parti e può essere anche a Milano Marittime il sabione. Ognuno prende il suo di sabione. No, a parte gli scherzi, io, Bob e Bigmo, Moreno, cerchiamo di raccontare in maniera simpatica tutto ciò che non viene raccontato, il dietro le quinte del mondo del trotto. C'è tanta roba da raccontare. Ci potete ascoltare andando su internet, qualsiasi motore di ricerca, scrivete, non dite, perché sennò Race Off il podcast, o anche solo podcast, e vi verranno fuori tutti i distributori di podcast e troverete ovviamente Race Off. È una bella immagine rossa di un cavallo libero, cliccate sopra e trovate già 80 puntate, due anni che facciamo sta roba. Noi vi aspettiamo e poi ci rivediamo sicuramente a Cesena.